Paura e delirio in Commissione Finanze perché arriva questa proposta di delibera avente ad oggetto i lavori di somma urgenza per 713 mila euro, lavori eseguiti da sette ditte diverse. Nulla a questio sulla necessità e sull'urgenza di questi lavori, però all'interno della proposta di delibera vengono indicati come coperti da un fantomatico capitolo di bilancio dal titolo Contributo della Regione per il ristoro per danni da eventi calamitosi e Contributo che in realtà non è stato mai stanziato preventivamente dalla Regione. Quindi trattasi fondamentalmente di un cassetto vuoto che era vuoto prima e lo è ancora di più adesso che ormai abbiamo avuto la conferma che non c'è stato alcun riconoscimento dello Stato in emergenza da parte della Protezione Civile Nazionale. Voi sostenete che ora a pagare il rischio siano i cittadini? Purtroppo più che un rischio è una certezza perché quindi visti tutti questi vizi amministrativi che hanno inficiato la validità dell'atto resta il fatto che questa somma è interamente un debito fuori bilancio quindi in quanto tale bisognerà trovare un modo per coprire questa cifra andando a tagliare chissà quanti e quali servizi. La cosa che infastidisce ancora di più è quando siamo andati a verificare come nel fondo di riserva delle casse comunali dove c'è una parte vincolata proprio per i lavori di somma urgenza viene invece utilizzato un po' come un banco ma con alcuni prelievi un po' frivoli l'ultimo dei quali ad esempio fatto appunto per finanziare il festival della rivoluzione che celebrava diciamo il centenario dell'impresa di fiume di Gabriele D'Annunzio quindi quando si dovrà trovare un modo per andare a tagliare questi servizi bisognerebbe anche dire appunto ai cittadini che questi servizi andranno rinunciati appunto non per pagare questi legittimi lavori ma anche per andare magari a coprire dei prelievi fatti in maniera un po' frivola. Grazie 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 Grazie